Il piacere, l'onore e l'onore, come si suol dire, di far parte della commissione del premio domotica di quest'anno. Il premio domotica all'interno della settimana della bioarchitettura viene assegnato da sei edizioni, siamo arrivati alla sesta edizione e è un premio che viene assegnato a progettisti che si siano distinti con progetti nell'ambito della domotica ma anche della sostenibilità energetica. Una delle cose più importanti che si possono dire su questo premio è senz'altro il raggiungimento che si è ottenuto dell'integrazione tra la sostenibilità energetica e appunto la domotica. Oggi ho coordinato l'ultimo evento della settimana della domotica qui all'agenzia per l'energia a Modena ed è stato il momento per fare il punto con l'Enea dell'iniziativa Italia in classe A. Italia in classe A è un'iniziativa che tende a creare le condizioni per l'efficienza energetica nel nostro paese, rivolta a famiglie, rivolta alle imprese, rivolta ai professionisti, rivolta agli operatori del settore per fare in modo che l'efficienza energetica nel nostro paese diventi una condizione attraente, cioè si creino le condizioni per realizzare realmente efficIENCi nel settore. Grazie mille per la ricerca! alla prossima! Hi, come l'on! Alla prossima! Ciao! Sianone Ginev**s! Gioia, ho fischendolo! Ciao!